Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera retta autostradale toscana e sulla FIPILI. Sulla strada regionale 302, Prisighellese-Lavennate, senso unico alternato per restringimento della carreggiata al km 15 e 980 nel comune di Vaglia, fino al 30 settembre. Sulla strada provinciale 15, Lucchese-Romana, senso unico alternato per restringimento della carreggiata al km 6 e 700 nel comune di Fucecchio, fino al 5 settembre. Per la viabilità cittadina a Firenze, in Viale Berfiore, fino al 28 settembre, chiuso il tratto compreso tra il numero civico 6 barra C e il numero 4, alla fine del controviale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!